Torniamo nel campo e abbiamo visto la nostra patata uscire dal magazzino. Nei terreni però dove si è coltivata la patata, con termini ci sono altre produzioni agricole importantissime per l'economia della nostra provincia di Verona, un'orticoltura di altissimo pregio, ma che avremo modo di vederla, di valutarla e anche di gustarla. Per mano andremo assieme a vedere e a scoprire un territorio importante per andare ad imbandire le nostre tavole perché da quello noi ci nutriamo e da questi terreni noi andremo a creare i piatti per la nostra salute nostra, ma anche dei nostri figli. Importantissimo quindi sapere qual è il legame geografico, ma anche storico, dei nostri prodotti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!